L'Unione Europea ed il Kenya hanno sottoscritto un accordo commerciale nell'ottica di legami economici più profondi di Bruxelles con l'Africa per far fronte alla concorrenza della Cina. Il presidente Kenyota Aruto ha presieduto una cerimonia Nairobi per segnare la conclusione formale dei negoziati per l'accordo di partenariato economico. Il Kenya risparmiera dazi per l'accesso al mercato dell'Unione, dove invia circa un quinto di tutte le sue esportazioni. Le importazioni kenyote, come ad esempio prodotti chimici e macchinari, invece, beneficeranno di riduzioni tariffarie progressive per un periodo di 25 anni.